Preghera nel giorno dell'Epifania Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ame Signore Gesù, che hai voluto farti piccolo per essere come uno di noi, per portare al mondo intero la salvezza e la vita eterna, in questo giorno desideriamo che il nostro cuore diventi più degno di essere la tua casa. Oggi siamo nella tua santa Epifania, come i Magi riconosciamo in te il nostro Salvatore e Re di tutto il creato. Vorremmo incontrarti nella tua povertà e lasciarci guidare dalla tua parola. Unico vero faro nel nostro cammino quotidiano. Rendi la Chiesa sempre più unita intorno a te e, allo stesso tempo, aperta e accogliente verso i popoli della Terra. Aiuta la nostra comunità a crescere attorno alla tua parola e all'Eucaristia. Fa' che cresca sempre più quello spirito missionario, capace di rendere ogni famiglia testimonianza viva della tua presenza e della tua parola. Accresci nella nostra comunità quel desiderio di comunione vera tra le persone, superando divisioni, invidie e incomprensioni che ci dividono e ci allontanano. In questo giorno, nel quale si celebra la giornata dei ragazzi missionari, ti preghiamo affinché tutti gli uomini della Terra si impegnino a vivere in pace con tutti. Fa' che venga messa fine alla guerra, che nessuno muoia più di fame o di sete, che tutti, in particolare i bambini, abbiano il necessario per vivere. Ci affidiamo alla protezione di Maria, tua e nostra madre, e di San Giuseppe, che ha custodito la tua famiglia da ogni pericolo. E tu, piccolo bambino divino, donaci il tuo aiuto, affinché possiamo essere fedeli a questi nostri propositi. Amen Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti anche a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi, e ci dia la pace. L'Incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video, e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Grazie